Buonasera, ospite di questa puntata di Inside, dentro il personaggio, è Giovanni Spinosa, presidente del Tribunale di Teramo. Benvenuto Spinosa. Buonasera a lei e ai telespettatori. Magistrato dal 1981, arriva a Teramo nel dicembre del 2008, prima di arrivare a dirigere il Palazzo di Giustizia Teramano, è stato protagonista di molte inchieste importanti che l'hanno anche fatto salire alla ribalta della cronaca per operazioni importanti giudiziarie. Ricordiamo tra le tante, in collaborazione con Tribunale di Palermo, molte inchieste condotte in Bologna e nell'Emilia Romagna sulla lotta alla mafia, soprattutto all'Andrangheta, anche alla Stidda, ma soprattutto le indagini sui crimini della Uno Bianca. Quello che però probabilmente è più cara come indagine, possiamo definirla così, è quella sulla doping nel ciclismo, anche perché lei tra l'altro è anche un appassionato di questo sport, di questa disciplina. Forse è stato il primo magistrato in Italia a mettere mano su come veniva usato il farmaco in maniera un po' illegale nella disciplina sportiva. Sì, è una indagine che mi è molto cara intanto perché mi riporta ad anni in cui ero molto giovane, in cui c'era una ricerca assolutamente originale sulla possibilità di pulire, di dare pulizia al mondo dello sport e del ciclismo in particolare. Parliamo di una indagine che nasce nel 1996, il Giro d'Italia del 1996, quando ancora non si parlava di doping nello sport come fatto che avrebbe potuto essere apprezzato nelle sedi delle aule giudiziarie. Da allora se ne cominciamo a parlare davvero tante volte. Stiamo parlando di casi e di ciclisti importanti come Armstrong, l'indagato sul medico che praticamente seguiva, il preparatore che seguiva questo grande ciclista e sul quale lei fece attirare i riflettori della inchiesta giudiziaria. Assolutamente sì, l'indagine, una delle prime indagini fu proprio quella sul dottor Michele Ferrari, che era il medico di centinaia di campioni del ciclismo e poi fu il medico che seguì per Armstrong, per tutti i tour vinti da Armstrong, che poi sono stati cancellati dal Salvo d'Oro del Tour de France proprio perché Armstrong si scoprì che aveva seguito delle pratiche non coerenti con la lealtà sportiva e con le etiche della salute. Lei arriva a Teramo nel dicembre del 2008, dicevamo. Ha trovato un tribunale sul quale si è messa subito a lavorare per una serie di situazioni, anche e soprattutto vedremo sui carichi pendenti e sull'organizzazione in generale della struttura anche del personale. Lei si appresta a celebrare quindi i primi sei anni di questa presidenza. Che anni sono stati questi sei a Teramo? Sono stati anni che mi hanno gratificato innanzitutto perché per me hanno rappresentato la possibilità di mettere a disposizione di una comunità un'esperienza, l'esperienza che avevo fatto in tanti anni di processi di prima linea, di processi importanti, capire, tradurre l'esperienza dei singoli processi nella capacità e nella possibilità di organizzare un ufficio giudiziario importante come quello di Teramo era una scommessa importante, una scommessa che ho cercato, con cui mi sono confrontato e devo dire sono stati anni molto belli perché ho avuto il conforto di giudici meravigliosi, di un personale amministrativo straordinariamente dedito al lavoro impegnato e che crede veramente nella propria semplicità, nei propri brontoli, ma crede nel proprio essere servitore dello Stato. Anni Belli. Nel suo compito e nella sua missione di magistrato penso che sia importante dare al cittadino delle risposte, ovvero abbattere quello che è lo spettro della denegata giustizia. Ci sono casi in cui la giustizia è veramente troppo lenta e arriva forse quando ormai è troppo tardi. A Teramo lì ha trovato una situazione di processi che duravano dal 1984. Leggendo dei numeri, mi potrà sentire se sbaglio a citarne qualcuno, in tutto questo periodo siete riusciti ad abbattere le cause civili in sei anni e di 2.000 fascicoli, il che mi sembra che sia un numero abbastanza importante. Oggi siamo arrivati, mi sembra, a 7.585 contro i 9.586 nel 2009. Assolutamente, questi sono dati che ci confortano perché abbattere le pendenze civili in un tribunale sottodimensionato, perché il tribunale di Teramo è un tribunale sottodimensionato nel silenzio di tutti. Ebbene abbattere le pendenze civili, che sono quelle più difficili da abbattere, da 9.500, come lei ha giustamente ricordato, a 7.500. in così pochi anni è stato, devo dire, qualcosa di gratificante, ma per tutti, per tutti i giudici, per tutti, vedere che un po' alla volta il carico diminuiva. Certo, ci piacerebbe poter dire che oggi le cause si riescono a fare in 8 mesi, in 10 mesi, oggi le facciamo in 800, la media è di 816 giorni, se non sbaglio, durante l'ultimo anno giudiziario, ho dei dati precisi su cui posso essere più preciso, sono 816 giorni, esattamente, 816,21 giorni, è il dato dell'ultimo anno giudiziario, ovvero l'anno giudiziario 2013-2014. Siamo parlando della media di un processo civile. La media di un processo civile. Ed erano, quando sono arrivato io, 1.103 giorni, nell'anno giudiziario 2008-2009, 1.103 giorni, anno giudiziario 2007-2008, 1.104 giorni. Abbiamo sostanzialmente abbattuto la durata media delle cause civili di quasi 300 giorni. Io penso che questo sia un dato importante. Oggi un processo civile si terrebbe in media in due anni e mezzo contro i tre anni e mezzo di qualche tempo fa. Assolutamente, sì. Numeri ufficiali della reportistica del Ministero della Giustizia. Tra l'altro, gli ultimi sono freschissimi, quelli di quest'anno. Sul fronte penale siamo, grosso modo, a cifre che rispecchiano anche una incidenza importante nella percentuale di diminuzione in questi anni. Perché, piace citare anche in questo caso ancora, 272 giorni di media per la definizione di un dibattimento penale. Nel collegiale sono 403. Sempre nel 2009 ne occorrevano 623 di giorni. Sì, 623 nel collegiale. Sì, anche questo è stato un risultato estremamente importante. Ottenuto con uno sforzo, un sacrificio da parte di tutti. Che abbiamo ottenuto i risultati più importanti nel penale, devo dire. Li abbiamo ottenuti nei primi anni. La nostra è stata una scelta strategica. Concentrarci prima sul penale, che è una situazione più facile da gestire, da controllare e da battere. Dopodiché concentrarci sul civile, nel senso che all'inizio abbiamo collocato più giudici nel penale. Dopodiché abbiamo ottenuto un certo risultato nel penale. Cerchiamo di mantenere lo standard medio nel penale ed ora siamo concentrati nel massimo sforzo nel civile. Io penso che se riusciamo a mantenere questi ritmi per altri tre anni, abbiamo bisogno di altri tre anni, Teramo potrà dire veramente di essere a livelli nord-europei nella giustizia civile. Come si riesce ad abbattere in così breve tempo? Stiamo parlando di una media di almeno 200-400 fascicoli l'anno. Ad abbattere una media di questo tipo? Bisogna darsi degli obiettivi. La cosa più importante è non pensare di fare tutto subito. Bisogna assegnare. Ogni giudice deve sapere quello che deve fare. Deve sapere da lui cosa si chiede per il successivo anno giudiziario. Deve sapere sia in termini di vetustà delle cause, perché non basta battere numeri, bisogna soprattutto eliminare le cause più vecchie. Eliminare una causa vecchia è più difficile che eliminare una causa recente, di recente iscrizione. E quindi bisogna darsi degli obiettivi, fissare per ogni ruolo e per ogni giudice gli obiettivi che deve raggiungere alla fine dell'anno giudiziario e invitare il giudice a una scommessa con se stesso. È un modo per motivare i giudici e per creare un organismo che nel suo complesso crede in se stesso e crede nella possibilità di raggiungere gli obiettivi. Perché è inutile porsi degli obiettivi che non siano raggiungibili. E devo dire che in questo noi siamo stati favoriti dalla presenza di giudici particolarmente giovani. Teramo è un tribunale con giudici giovanissimi. Sono dei ragazzi straordinari i giudici del tribunale di Teramo. E il merito di questi risultati va soprattutto a loro, a me in minima parte, anzi direi quasi per niente a me. Va a questi ragazzi che sono straordinari. Vengono dai loro 18 mesi di formazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Probabilmente i telespettatori non sanno che si diventa giudice... E così, spieghiamolo anche perché. Qual è il cammino di un giudice verso una portona o un incarico in un tribunale? Si diventa... Questi ragazzi prendono una laurea. Dopo la laurea fanno delle scuole di specializzazione. Dopo alla fine delle scuole di specializzazione vengono ammesse al concorso in magistratura, che è uno dei concorsi più selettivi che esistano in Italia. Lo superano in una percentuale del 15-20% dei concorrenti mediamente. Una volta superato il concorso in magistratura, hanno un periodo di formazione che dura 18 mesi. È un periodo durissimo. Questi ragazzi vengono presi per settimane intere e portati... Letteralmente portati perché è una struttura a Firenze, isolata, si trova un palazzo fuori Firenze, nei pressi di Scandicci, dove passano settimane intere di studio e di full immersion nella dottrina e nella gestione, nelle tecniche di gestione del ruolo. Alla fine di questi 18 mesi vengono assegnati al tribunale. Quindi oggi noi abbiamo avuto la fortuna di avere giudici giovanissimi, motivati, che credono nella funzione e vivono con entusiasmo questa funzione, in silenzio, con un'abnegazione meravigliosa. I loro nomi sono totalmente sconosciuti ai giornali, all'opinione pubblica. Nessuno sa che esistono i nomi di questi ragazzi, ma sono ragazzi che tutti i giorni sono lì sulle carte a tirar fuori i fascicoli che sono pieni di polvere, perché hanno tirato fuori i fascicoli che erano lì da anni pieni di polvere, ci volevano i guanti per aprirli e per leggere pagina per pagina quello che era successo negli anni. E hanno estratto da questi fascicoli i dati salienti, hanno scritto delle sentenze, belle sentenze tra l'altro, sentenze importanti. Le sentenze del Tribunale di Teramo sono citate, sono spesso citate nelle riviste di diritto. Sentenze importanti che hanno consentito questo cammino. Veramente, allora, vorrei che tutti volessero più bene a questi ragazzi. Sentire queste parole da parte di un Presidente nei confronti di colleghi più giovani, di solito nella magistratura si penserebbe, sarebbe da accostare l'esperienza magari alla saggezza di una sentenza. Invece proprio non è caso in questi termini. No, non è così. È un po' sconfessare un luogo comune. Sì, lo dobbiamo sconfessare. Io quando mi confronto sui temi di diritto con loro, sulle novità del diritto, mi sento veramente inadeguato. Loro sono molto più preparati e molto più aggiornati di me sulle novità della dottrina e della giurisprudenza. Io cerco di mettere a loro disposizione solo la mia esperienza e il mio sforzo di dare a tutti un compito, di dare a tutti un obiettivo, di ascoltare tutti e cercare di trovare per tutti le strade per risolvere i problemi dei singoli, perché poi sono ragazzi che vivono lontano da casa, con tanti problemi, è giusto che vivano anche la loro vita. Oggi che si sente, Presidente, di dire a Teramo in particolare, per esperienza del suo tribunale, ad un cittadino di fidarsi ancora della giustizia, sia nel penale che nel civile? Assolutamente sì. Io su questo, senza ombra di dubbio, Certo, noi possiamo commettere degli errori, non c'è dubbio. Siamo persone che operano tutti i giorni, operano delle scelte. L'errore appartiene alle umane cose. Però io posso dire una cosa, che i giudici di Teramo sono giudici che vengono, che non sono coinvolti in contesti amicali, locali. Sono giudici veramente al di sopra delle parti, sono giudici liberi e indipendenti, sono giudici che fanno il loro lavoro senza guardare in faccia a nessuno, conoscendo solo le carte, la legge è quello che devono applicare, vivendo, cercando di applicare il buonsenso e la misura, quando il buonsenso e la misura sono necessari, e sono sempre necessari, lavorando con le regole e nelle regole. Giudici che vivono una loro vita, se si vuole, anche un po' estranea rispetto alle cene e cenette in cui si è probabilmente abituati a... Lui ha trovato questa tendenza nel Teramano in questi sei anni, sulla quale probabilmente ha dovuto anche lavorare, intervenire personalmente, per, non so, indicare anche condotte un po' più rigi a quello che era la professione di magistrato. Non ho avuto bisogno di indicare queste condotte ai giudici del mio tribunale, perché sono giudici che sanno come si devono, del nostro tribunale, che sanno come si devono comportare. E probabilmente, probabilmente c'è anche bisogno, da parte dei vertici, compresa della magistratura, di dare questo esempio. Le cene, le cennette, le prime teatrali, sono cose che non ci appartengono. Questo vedremo poi per un altro aspetto, magari torniamo su questo argomento, perché potrebbe fare una domanda proprio specifica rispetto ai rapporti con la città, ma mi sorprende un attimo ancora con i giudici, sul problema dei giudici. Lei ha parlato di giudici che sono molto impegnati in prima linea, giovani, stimolati sicuramente dalla passione per il loro lavoro, ma che sono ancora pochi. Teramo è stata negli anni sempre un po' al centro dell'attenzione per essere un tribunale in cui l'organico non era mai quello giusto e adeguato alle esigenze di quello che era il territorio, ma soprattutto dei fascicoli sopravvenuti, che mi sembra poi anche che sia il parametro sul quale il Ministero e comunque il Consiglio Superiore della Magistratura si basa per determinare qual è il numero giusto di giudici per un tribunale. In questo momento qual è la situazione? La pianta organica del Tribunale di Teramo prevede 19 giudici, un Presidente di sezione e un Presidente di tribunale, quindi 21 magistrati complessivamente. Secondo uno studio che è stato fatto l'anno scorso dal Dipartimento Organizzazione del Ministero di Giustizia che ha comparato i dati della sopravvenienza nazionale di fascicoli in primo grado con il numero dei giudici, in primo grado Teramo dovrebbe avere una pianta organica di 29 giudici. Ne abbiamo quindi in pianta organica 21, mediamente ne sono assenti 3, 4, quindi ciascuno si può rendere conto della pianta organica complessiva. C'è un dato che probabilmente può dare il senso all'opinione pubblica di quanto si lavora mediamente in un tribunale, nel tribunale di Teramo. Ma questo riguarda i giudici ma anche il personale amministrativo. Probabilmente l'opinione pubblica pensa al tribunale solo le cause civili, le cause penali, le cause dell'ufficio. Non sa che contemporaneamente ci sono tante altre cose, il rilascio, un'autorizzazione al rilascio di un passaporto, una rinuncia all'eredità, le cosiddette pratiche della volontaria giurisdizione, i reclami ai collegi. Il tribunale di Teramo nello scorso anno giudiziario ha definito complessivamente, calcolando tutto, ufficio GIP, contenzioso civile, contenzioso penale, volontaria giurisdizione, 29.100 affari. Se noi 29.100 affari li diluiamo per il numero di giorni lavorativi, il numero di giorni lavorativi facciamo un conto approssimativo, 260-270 giorni, ci si rende conto mediamente quanti affari vengono definiti giornalmente dal tribunale di Teramo su una pianta organica di 21 giudici, che poi ce ne sono effettivamente presenti 18. Questo dà l'idea della mole di lavoro. Parliamo di circa una divisione che si fa presto, 29 diviso 18, sono... Sono almeno un migliaio. Esattamente. Quindi abbiamo un'attività quotidiana veramente importante che coinvolge le cancellerie. Non sembrerebbe un tribunale di provincia. Assolutamente no. Teramo è un tribunale di prima linea, con situazioni complesse, diversificate, che richiede una preparazione poliedrica. La causa, che dire, per una servitù di passaggio in un paese dell'Appennino, nei pressi alle falde del Gran Sasso, sui monti della Laga, è ovviamente diversa da una causa di lavoro del dipendente che viene licenziato da un'azienda in crisi della Val Vibrata, oppure da una causa di natura commerciale di Giulianova o di Rosetto, per non parlare poi del penale, dove ci sono situazioni effettivamente di grave e di grande... che richiedono grande attenzione. Si tratta anche di dati che ci danno anche un'idea di quanto è lo specchio della litigiosità anche in questa provincia, come fenomeno sociale. Sì, è una litigiosità importante, ma non per una speciosità del carattere del Terramano, è che Teramo ha situazioni complesse e delicate. Se noi pensiamo che Teramo è stata per anni la più settentrionale delle province italiane, ricomprese nei programmi speciali di tutela per il mezzogiorno e per lo sviluppo del mezzogiorno, ci rendiamo conto di quanti capitali di comodo sono stati investiti dal nord a Teramo per creare situazioni che poi sono esplose come bolle di sapone. Ma questo, che sul piano sociale ha degli impatti devastanti per la economia e per i tanti lavoratori che vengono coinvolti, per il tessuto economico complessivo, poi si traduce in situazioni di grande delicatezza per il Tribunale. La sezione fallimentare di Teramo è una sezione veramente di prima linea, le esecuzioni immobiliari e immobiliari di Teramo sono sovraccariche in modo straordinario. La sezione lavoro di Teramo ha subito in questi anni un impatto devastante. Quindi sono tutte criticità che si riflettono sul Tribunale in questa poliedricità di situazioni che, ripeto, vanno dalla servitù, dalla banale servitù di passaggio del carico di prodotti agricoli nel piccolo appezzamento di terreno del Gran Sasso a queste situazioni di alta criticità. Ecco, lei citava un caso importante perché anche la crisi ha avuto un riflesso importante sulla Tribunale di Teramo. Gli ultimi dati, almeno relativi anche all'anno scorso, parlavano di un Tribunale che in Abruzzo, anche perché molte delle cause vengono iscritte a Teramo nei fallimenti, perché hanno molte società a sede in provincia di Teramo, si viaggiava ad una media di 140, 130, 120 fallimenti l'anno. Mi sembra che sia un numero abbastanza pesante. È un numero impressionante. Noi siamo arrivati un anno, adesso quest'anno sono un po' meno, siamo arrivati un anno a iscrivere 160 fallimenti. 160 fallimenti è un numero spaventoso. Se noi pensiamo che un Tribunale come Bologna ne iscrive, e Bologna parliamo di un grande centro, di un Tribunale che ha un'intera sezione fallimentare, dove ci sono cinque giudici, noi abbiamo un solo giudice delegato ai fallimenti, dicevo un Tribunale come Bologna ne iscrive meno di 500, ci rendiamo conto che Teramo è veramente in una situazione di sottodimensionamento che dovrebbe forse interessare un po' di più le forze della cultura teramana. Non voglio dire le forze politiche perché poi si dà sempre i politici, la colpa dei politici. No, no, qui esiste un problema della cultura di un territorio che deve amare il suo Tribunale. Ecco, hai introdotto un discorso anche delicato che dovremmo comunque affrontare. Qual è il rapporto tra il Tribunale e la città? In questo caso non vorrei parlare soltanto del Presidente, del Sindaco, piuttosto che del Presidente della provincia o del Prefetto. Qual è il rapporto tra i teramani e questo Tribunale? Dunque, faccio una premessa. Io a Teramo mi trovo molto bene perché ogni volta che entro in un negozio, che incontro una persona per strada, ma non perché mi conosco o non mi conosco, è una persona che sorride. Il teramano ha, e diciamo in genere l'abruzzese, ha una caratteristica straordinaria, è una persona che sorride quando parla e questa è una cosa molto bella. Detto ciò, è sgomberato il campo da questo profilo che non vorrei che sgomberiamo il campo dalla possibilità che si possa parlare e si possa dare l'impressione di un rapporto di natura umano, io devo dire che ho trovato nei confronti del vicende del Tribunale forse una qualche distrazione, usiamo una qualche distrazione di troppo. Prima io ho detto dei numeri, i numeri relativi al sottodimensionamento del Tribunale di Teramo. Non è che sono numeri conosciuti solo agli addetti ai lavori, sono numeri che sono pubblicati, sono pubblicati su internet, basta andare sul sito del Ministero della Giustizia e cercare le relazioni del Ministero della Giustizia su questo argomento. E' possibile che non esista, per non citare i soliti politici, un'associazione industriale, un sindacato, un'associazione culturale che dica ma ci vogliamo svegliare, vogliamo battere i pugni sul tavolo per rinforzare questo Tribunale, per dare a questo Tribunale i mezzi affinché questa città abbia le risorse che ha diritto ad avere in forza della centralità della sua situazione economica, delle criticità economiche, del numero di fallimenti che ha, del disagio sociale spaventoso che esiste in questa città. e i numeri del Tribunale non sono numeri d'addetti ai lavori, sono numeri che riguardano tutta una città. Rispetto a questo tema io devo dire che ho trovato grande distrazione. Parleremo anche un po' di disinteresse considerando che basta fare un giro dentro il Tribunale ma leggere anche le cronache più recenti, le ultime a luglio quando sono stati ritrovati anche dei topi, dei roditori morti nell'archivio, insomma c'è una situazione un po' di abbandono in questo Tribunale dal punto di vista strutturale. Sì, anche qui io non voglio che questo discorso si traduca nel solito dito puntato contro qualcuno senza che ciascuno si sia chiesto ma io potevo fare qualcosa. Questo è un Tribunale che ha problemi strutturali importanti. Ci sono, ha problemi di programmi antincendio che devono essere sviluppati e non vengono sviluppati, ha situazioni di archivio critiche, ha delle cupole che dovrebbero essere un patrimonio della città, che non si riescono a trovare i finanziamenti per rimetterli a posto, ha delle scale antincendio che mancano, ha delle barriere architettoniche che non vengono abattute per le disabilità, e un Tribunale che ha delle criticità. Noi lanciamo, come Tribunale di Teramo, lanciamo una iniziativa che a me sembrò essere importante, una iniziativa in collaborazione con l'Università di Pescara, la Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara, per un concorso fra tutti gli studenti di architettura d'Italia, per un progetto per il Tribunale di Teramo che valorizzasse la dignità architettonica di questa struttura. Ricordiamo che... Che è citata in tutti i libri di architettura, anche per questa sua particolarità strutturale, urbanistica. Assolutamente, è un patrimonio di Teramo. E io sento spesso dire, ma a me piace, a me non piace. Il punto non è che un'opera d'arte deve piacere o non deve piacere, e il punto è che un'opera d'arte, e il Tribunale di Teramo è un'opera dell'architettura contemporanea, è una testimonianza di una scuola di pensiero architettonica. Per cui non è che si discuta se piaccia o non piaccia. Penso che se fosse tenuto bene piacerebbe a tutti. Ma il punto è che una testimonianza di una scuola importante, e forse unica, una testimonianza unica del pensiero architettonico contemporaneo in Italia. E allora noi lanciamo questa iniziativa per recuperare il valore architettonico di questo Tribunale per un progetto, un concorso fra gli studenti di architettura. Questa iniziativa prevedeva una borsa di studio di poche migliaia di euro. L'iniziativa è stata lanciata fra tutte le università italiane e sono rimasto sbalordito nel scoprire che a Teramo non esiste, non esistano imprenditori, soggetti pubblici in grado di mettere assieme queste poche migliaia di euro. Parliamo di una borsa di studio di 5.000 euro, 6.000 euro, o cosa diamo una borsa di studio per degli studenti. Ho detto una cifra per dire qualcosa davvero che farebbe di poco conto. E allora quando non si riesce, al termine tra l'altro di un convegno straordinario conclusosi con un concerto all'interno del Palazzo di Giustizia dei ragazzi dell'istituto musicale Braga, altra grande testimonianza della capacità di Teramo di produrre cultura a questo istituto musicale, dicevo, quando non si riesce a coltivare una iniziativa di questo tipo, io penso che bisogna chiedersi qual è il senso di affetto, il senso di comunione che un popolo ha con il suo tribunale e con chi amministra la giustizia in questa terra. Lei ha parlato di scarsa sicurezza in sostanza di questo edificio, che potrebbe sembrare un paradosso per esserlo in un palazzo di giustizia, ma ci sono strumenti per arrivare a far svegliare da questa distrazione anche gli amministratori locali, chi comunque dovrebbe intervenire? Noi ricordiamo che il proprietario comunque della struttura è il comune di Teramo, quindi sia tutto quello che attiene alla pulizia e alla manutenzione di questa struttura è deputata all'ente principe di questa città. Ci sono dei modi per poter arrivare a questo? Lei ha avuto assicurazioni più volte di interventi quasi nell'immediato che poi però non si sono concretizzati? Sì, io ho avuto assicurazioni e devo dire, continuo ad avere assicurazioni e nonostante molte amarezze continuo ad essere fiducioso, perché se non fossi fiducioso non continuerei a restare a Teramo. Noi ricordiamo che questo tribunale è frequentato ogni giorno da circa un migliaio di persone. Sì, mediamente 800-900 persone parliamo nelle giornate martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nelle quattro giornate in cui ci sono più di ansia. Ma vede... Perché non succede niente, di solito. In Italia si parla sempre che si interviene quando c'è di mezzo una tragedia. Perché non succede niente. Noi abbiamo la straordinaria fortuna che, prima dicevo, il Teramano è una bella persona perché sorride sempre. Abbiamo una straordinaria fortuna di avere un'utenza di persone che sono brave persone. Sono brave persone. Ma vedate, tutti i giorni nel tribunale si consumano delle tragedie. In che senso? Nel senso che c'è un papà al quale dicono tu potrai vedere i tuoi figli una volta alla settimana perché questo ha deciso il giudice all'esito di una causa di separazione. c'è una persona, un padre di famiglia che si vede si vede espropriata la casa per un debito rispetto al quale è insolvente e venduta all'asta a prezzi che oggi le aste sono sistematicamente a ribasso perché il mercato immobiliare sappiamo che situazione tragica è venduta all'asta a un prezzo che è un terzo rispetto a quello che l'aveva pagata. Sono tragedie, vicende drammatiche e non parlo delle tragedie della persona che viene condannata a pene detentive, parliamo della quotidianità, parliamo della vita di un tribunale e tutti i giorni succedono, si consumano di queste tragedie nel tribunale il tribunale di terra come in qualunque altro tribunale d'Italia. e se non succede niente è perché in definitiva chiedo scusa perché in definitiva abbiamo una comunità che al di là che è forse migliore dei centri esponenziali della cultura che pure dovrebbero rappresentarlo e pure dovrebbero porsi il problema di questo tribunale che ha diritto ad essere tutelato, apprezzato ed amato di più. a meno che di ricorrere a degli espedienti chiamiamoli così che siano diversi prima si parlava dei rapporti probabilmente non frequenta abbastanza le cene i salotti e i salottini terramani per poter avere come dire un po' di entrature tali che forse potrebbero accelerare anche questi lavori di messa in sicurezza del tribunale ha avuto lì come provocazione noi conosciamo solo percorsi istituzionali salotti i salottini li lasciamo ai salottieri noi siamo magistrati e crediamo solo in percorsi istituzionali chiediamo alla cultura terramana di frequentare i salotti che loro ritengono di dover frequentare a noi questi salotti non interessano ci aspettiamo che questi salotti li frequenta al di fuori della magistratura rifletta sulla sulla necessità di avere una giustizia che funziona in una struttura che funziona hai parlato di tragedie provo a utilizzare questo riferimento in maniera forse un po' irridente ma per dire che un anno fa o proprio di un anno fa lei ha affrontato una un qualcosa che sembrava una tragedia per la comunità degli avvocati di chi frequenta il tribunale degli addetti ai lavori cioè l'accorpamento delle sedi distaccate in una sede unica che era quella di Teramo beh oggi a un anno e più di distanza perché era di settembre del 2013 questa iniziativa cosa può dirci c'è un bilancio positivo di questo accorpamento il primo il primo bilancio sono ancora una volta i numeri numeri ufficiali la somma totale dei processi contenziosi trattati dal tribunale di Teramo accorpato e la più alta di tutti i tempi quindi evidentemente sul piano dell'attività giurisdizionale a qualcosa è servito il secondo aspetto è un aspetto di natura organizzativo io mi rendo conto che per tanti avvocati per tanta parte dell'utenza venire a Teramo da posti a una certa distanza può essere un sacrificio però noi dobbiamo anche renderci conto che sedi separate non erano più in grado di offrire una giustizia in tempi reali senza nulla togliere al merito che avevano i giudici cancellieri e il personale che lavorava nelle sezioni di staccate le sezioni di staccate di Atria e Giulianova avevano tempi di definizione dei processi molto più alti della sede centrale oggi oggi le sezioni di staccate i processi delle sezioni di staccate si sono allineati a quelli della sede centrale io mi domando se un'azienda che dire un'azienda di Pinetto dico Pinetto che era nel territorio della sezione di staccata di Atria la sezione di staccata di Atria aveva una media le cause civili le definiva in 1400 giorni circa va bene se un'azienda di Pinetto oggi anziché andare ad Atri per una causa civile deve venire a Teramo però la sentenza gli arriva con due anni di anticipo un anno e mezzo di anticipo io chiedo per il territorio dell'Atriano era meglio avere una sezione di staccata ad Atri o è meglio avere un tribunale che funziona un po' di più a Teramo questa è la domanda che io penso quanti hanno e io comprensibilmente difeso le tradizioni di una storia in alcuni casi millenaria della giurisdizione locale quanti l'hanno difesa questa è la domanda a cui devono dare una risposta in ciò poi diciamoci anche con grande franchezza con il pensionamento di tanti dipendenti personale amministrativo oggi noi non saremmo stati più in grado di reggere una struttura amministrativa dislocata su tre fronti diversi ma il vero punto ripeto il vero punto non è quello non è questo non è nemmeno quello del risparmio economico il vero punto è la funzionalità della giurisdizione e io credo che sia un punto di cui chi si giova più di ogni altro sono le aziende le aziende il tessuto economico del che incidente sulle sezioni distaccate su quelle che una volta erano le sezioni distaccate bene lo ringrazio ci diamo appuntamento a breve speriamo per poter celebrare magari qualche passo in avanti almeno dal punto di vista dell'immagine dell'esteriorità della struttura di questo tribunale pur celebrando dei numeri veramente importanti grazie a lei e grazie a te degli spettatori grazie a tutti grazie a tutti